a battere Sidini che va al centro potente il tocco e la palla che sfila di poco a lato tenendo vicinissimo al gol Di Mario Franci però arriva e gli porta via il pallone facendo ripartire il controviete Giovagnoli non ci arriva Di Mario a tu per tu con l'estremo difensore Ponzelli si gira Di Mario e la conclusione in porta si sblocca il match e Di Mario a siglare l'1-0 per il Bar Crystal prova a saltare un uomo, cade a terra, non c'è il fischio del direttore di gara recuperata la sfera quindi dal Bar Crystal che può distendersi sulla sinistra ancora Brannetti al servizio per Di Mario che caccia in porta ma la palla si spenge alta e va in avanti e trova solo un compagno il lancio lungo a cercare Di Mario al limite della rigore la conclusione di Di Mario l'ottima risposta in questo caso di Ponzelli a salvare la porta del Tony Ponzi a dare ancora speranza agli uomini in maglia gialla grazie a tutti